Ehi, salve! Ci siamo divertiti stasera, ma se pensiamo a cose serie, questo è il periodo in cui capiamo quanto è importante donare. E non esiste regalo più grande di una bella trombata. Perciò, durante queste feste, perché non trombare con chi ne ha bisogno? Sono Barney Stinson e ti invito a pensarci su.